Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ah, ho già fatto... Ok... Skipper va... Il caffè, porco Dio, porco Dio, porco Dio... Ah... Ah, ma ci dobbiamo mettere paura... Emozioni... Eh sì, da forse... Ah, ma ci dobbiamo mettere paura... Emozioni... 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 Il presentimento... Vabbè io lo dico così, se dovesse succedere... No Rishu... Il presentimento è solo uno... Quello che mi sta scendo per il culo... Oh cazzo... 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 Ma Roma... Esplode tutto... Non baciami... Oh, oh... Cazzo... Cazzo... Sparso la cosa... Cazzo... No, hai fatto buve... Oh, hai fatto buve... E la prima... No... Ah, ok... No, ma... Oh Dio... Ah po', che aveva... Portavolo su... Oh... 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 Che roba... Linguazioni... Così... Di... Go ! Cazzo... Angerà... Ottom... Tutto... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... troppo tardi, troppo tardi, mi dispiace, eh no, troppo tardi signori, mi dispiace, eh, è capitato, eh no, non l'ha fatta prima ragazzi, fate la clip e vediamo se dopo o prima, dai, vai fate la clip è legato che stai con la donna mia, porco dio, dio con, no, cito, porco dio quando non tenevi la finanza lo scorreggiavi di più, è la vita che me lo pre... no, fra, è che, eh, aspetta, vediamo se mi esce vedi, cazzo, mi è uscita vabbè, ma la cosa principale è che se tu puoi mangiare la roba stasera si chiama questa non è Ibiza avete capito? quando noi riusciamo nessuno più ci prena quando noi riusciamo nessuno più ci prena maron maron gripada signori, gripada il pompiere paura non ne ha il pompiere paura non ne ha ma basta ma basta piacere vabbè non l'avevo comunque la fatica che mi raccontate sei stati in vacanza parliamo un po di scatti aspetta vediamo se va scatti va scatti ottima roma una ottima annata ottima annata ottima annata è stata questa scorreggia ottima annata attivate